Siamo sul rischio di giungere a un punto di non ritorno, perché finora abbiamo parlato se la guerra ci sarebbe stata o non ci sarebbe stata in Europa. Adesso da due giorni abbiamo questa dichiarazione ufficiale del Presidente Macron, che è il capo della Francia, di uno dei più grandi paesi dell'Europa, che dice che vuole condurre gli eserciti a combattere in Europa contro la Russia per sconfiggere la Russia e difendere l'Ucraina. Perché? Perché secondo le notizie che arrivano dal campo la Russia sta prevalendo sul campo di battaglia. Qui la contraddizione qual è? Che per mesi e mesi hanno detto che questa guerra non si poteva concludere con un negoziato, ma solamente si poteva concludere con la vittoria sul campo. Nel momento in cui la Russia sembra prevalere sull'Ucraina sul campo si dice che questo non va più bene, questa sconfitta dell'Ucraina, questa vittoria della Russia non si può accettare e quindi bisogna mandare gli eserciti europei per combattere contro la Russia. Questo vuol dire aprire le porte a una tremenda guerra mondiale di cui non possiamo sapere gli sviluppi e gli esiti. Probabilmente, come qualcuno dice, in una settimana si distruggerebbe l'Europa. E allora il punto vero è che noi non possiamo più far finta di nulla, non possiamo continuare a fare le cose che facciamo ogni giorno come se questo pericolo non fosse incombente. Dobbiamo pensarci ciascuno di noi da questo momento in poi. Ognuno di noi è responsabile di tutto. Ognuno di noi è responsabile delle vite che si potranno distruggere in Europa. Ognuno di noi è responsabile di ogni bambino che viene ucciso a Gaza. Ognuno di noi è responsabile della bambina beduina che è stata uccisa da un drone iraniano in Libano. Non possiamo più fare finta di nulla. E in questo momento che ci vengano tarpate le ali, che si proibisca a un'iniziativa politica come quella di pace, terra e dignità. Di entrare in campo nelle elezioni europee, non per combattere contro l'una o l'altra forza politica, ma per promuovere in Europa, per costringere l'Europa, per indurre l'Europa ad assumere un atteggiamento di pace, un atteggiamento favorevole al negoziato, un modo di uscire da questa terribile contraddizione che si è aperta in Europa. Questa è una cosa gravissima, che si illeda la democrazia italiana, non per gli interessi o contro gli interessi di questo o quel partito, ma perché si possa portare in Europa l'istanza, l'anelito della pace, del negoziato, dell'accordo, della riconciliazione. Non è possibile che noi accettiamo una situazione di questo genere, che noi lasciamo che i governi, che i partiti, che le televisioni continuino a parlare di altro quando si sta preparando una tragedia, perché non è solamente la Francia. E anche l'Inghilterra ha detto che le armi che gli inglesi forniscono agli ucraini devono andare a colpire in profondità il territorio russo, ma allora le armi non hanno un'identità, non c'è un timbro sulle armi. Se delle armi dell'Occidente, se delle armi della Nato vanno a colpire in profondità il territorio russo, lì ci sono anche le nostre armi, le armi italiane, le armi che noi abbiamo mandato con i nostri soldi, e non si può distinguere tra le armi russe, tra le armi tedesche, le armi inglesi e le armi italiane. Noi entriamo in questo modo direttamente nella guerra, nel conflitto, perché quando noi non abbiamo dichiarato guerra alla Russia, non c'è nessuna ragione di fare una guerra alla Russia. La stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice che noi non vogliamo fare la guerra alla Russia, ma il problema è che ce la farà un Presidente del Consiglio da solo contro l'Europa, ce la farà la destra da sola a impedire la guerra in Europa. Non è possibile esserli sicuri, allora bisogna che tutte le forze che sono disponibili, le forze popolari, le associazioni, le università, le televisioni, i giornali, la stampa, tutti insieme si ergano contro questo pericolo della guerra. Dicano che non è possibile in questo momento, nel 2024, pensare di scatenare una guerra in Europa che automaticamente vorrebbe dire una guerra nel mondo. Dobbiamo finire questa corsa, questa deriva, dobbiamo dare un alt a questa propensione inconcepibile e incomprensibile verso la guerra. E quindi il fatto che venga impedita da una difficoltà di carattere amministrativo che una lista come pace, terra e dignità sia presente nella circoscrizione del nord-ovest, per portare avanti questo discorso sulla pace, è una gravissima lesione della democrazia. Noi non abbiamo nessun merito come movimento politico, abbiamo solamente capito un po' prima degli altri che ci eravamo messi su una strada per la quale era molto pericoloso ed era molto facile che potessimo precipitare in un conflitto incontrollabile. Adesso questa cosa si sta verificando, la nostra previsione, o meglio il nostro timore, si sta rivelando fondato. E allora facciamo appello alle forze popolari, facciamo appello alla democrazia, facciamo appello alla Costituzione, facciamo appello al Presidente della Repubblica, facciamo appello alla Presidente del Consiglio, perché si mette in azione un'iniziativa forte dell'Italia perché l'Europa intera si erga contro gli spettri della violenza e della guerra e riporti la pace in Europa.